Ciao! In questo periodo, sono in prossimità di insediarmi nel consiglio comunale di Tarquinia, ma molti di voi saranno impegnati con la dichiarazione dei redditi. Vi ricordo che con un semplice gesto che non costa nulla, il 5 per mille, potete fare un grande dono, quello di sostenere e dare più forza ai progetti dell'Associazione Luca Coscioni. È importante per noi sentirvi vicini anche in questa circostanza. Con l'aiuto di tutti, si possono fare grandi cose. La libertà di ricerca scientifica è una di queste. In Italia questo non è possibile, ma grazie a te lo potrebbe diventare. A volte mi accusano di confondere la politica con la religione, ma nella nostra nazione, spesso e volentieri avviene il contrario. Non si può avere un'argomentazione religiosa per impossessarsi del corpo, delle scelte e delle potenzialità intellettive altrui. La battaglia per la libertà di ricerca scientifica con la quale avrei potuto parlarvi in questo video messaggio mi rende fiducioso, affinché, grazie a te la libera scienza sia in libero stato. Per scoprire tutte le modalità per compilare il tuo 5 per 1000 visita www.ilcacoscioni.it www.ilcacoscioni.it